E ha confermato quello che ha detto sin dall'inizio. Grazie. È durato circa due ore l'interrogatorio di convalida dell'arresto al Tribunale di Pescara della 33enne nigeriana Happy Ayekbeni, fermata domenica scorsa con l'accusa di omicidio preterintenzionale di Donato Pangiarella, 74 anni, pensionato di spoltore. La donna, davanti al GIP Maria Michela di Fine e al pubblico ministero Giampiero di Florio, assistita dal legale d'ufficio Albaronca, ha confermato la versione resa a caldo ai carabinieri che l'hanno arrestata domenica e portata nel carcere teatino di Madonna del Freddo, ribadendo dunque la sua innocenza. Quindi l'incontro, sabato pomeriggio in un supermercato di Montesilvano, Pangiarella, che si sarebbe offerto di portare la spesa della Ayekbeni, l'arrivo nella casa di Via Cerrano e l'anziano che avrebbe tentato un approccio sessuale respinto dalla donna. Solo allora sarebbe nata una colluttazione. L'uomo avrebbe battuto la testa contro un mobile, poi, stordito, avrebbe preso l'ascensore nel quale è stato ritrovato senza vita dalla stessa Ayekbeni, che ha dato l'allarme chiamando un condomino dello stabile. All'interno dell'appartamento di Via Cerrano c'era anche il convivente della donna nigeriana, della stessa nazionalità, che però non avrebbe sentito nulla perché stava dormendo. Dall'autopsia eseguita sul corpo dell'anziano è emerso che la ferita alla tempia riportata da Pangiarella non sarebbe la causa scatenante della morte avvenuta per infarto, anche se la spinta sarebbe stata data alle spalle e non da davanti, come ha raccontato la donna. La versione della Ayekbeni, però, non avrebbe convinto investigatori e familiari di donato Pangiarella, anche in considerazione delle patologie dell'anziano dispoltore che, secondo il racconto dei familiari, era a Montesilvano per cercare il proprio medico. Un giallo, quindi, di difficile soluzione, a meno che non spuntino nuove testimonianze. Non ci sono le immagini dell'incontro al supermercato, dalle telecamere di videosorveglianza, non ci sono nemmeno testimonianze chiave. Una luce potrebbe arrivare solo dalle analisi scientifiche del RIS di Roma, condotte ieri mattina nell'ascensore e nell'appartamento di Via Cerrano. Intanto, il GIP del Tribunale di Pescara si è riservato di decidere sulla convalida dell'arresto.